Ciao da 100% Sciacero e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone ottiene la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella con l'Atalanta e quindi mette in cascina punti importantissimi per la lotta salvezza contro un Sassuolo che ci ha fatto faticare nel primo tempo un primo tempo in cui non siamo stati in grado di creare azioni veramente pericolose forse il colpo di testa di Chedira mi pare e un paio di situazioni che potevano essere sfruttate meglio mi pare una bella azione che era stata costruita da destra a sinistra poi Bytes credo ha messo la palla in mezzo è arrivato su Le che però non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta anche perché era marcato dall'avversario però abbiamo fatto alcuni errori in mezzo al campo non siamo gestiti determinati possessi e il Sassuolo in alcune situazioni ne ha approfittato e in altre no e si è portato poi sul 2-0 con la doppietta di Pinamonti nel primo gol il difensore parte dalla sua metà campo senza che nessuno praticamente lo contrasti e la palla poi arriva a Pinamonti che viene servito perfettamente mettendolo in condizione di poter segnare la seconda azione anche lì una ripartenza comunque del Sassuolo con tanti uomini che poi vede costruita sulla loro fascia destra vede la palla arrivare proprio a Pinamonti che al volo la colpisce e mette in rete serviva quindi una scossa al Frosinone per riportarsi in partita c'è stata sul finale del primo tempo con il calcio di rigore guadagnato da che tira quello che mi ha dato fastidio è che l'arbitro era lì vicino e ha fatto praticamente tutti i gesti possibili per indicare che il calcio di rigore non c'era salvo poi essere richiamato dal bar e assegnare il calcio di rigore io dico aspetta mezzo secondo non fare gesti per dire no non c'è assolutamente nulla aspetta un attimo in modo tale che il VAR possa fare il controllo e poi eventualmente decidi in un senso o nell'altro non che prendi iniziativa in quel modo lì molto plateale e poi devi essere bacchettato perché il calcio di rigore c'era e tu non l'hai dato che tira comunque segna ed è importantissimo poi per il secondo tempo con il Fosinone che entra con tutt'altro spirito vuole riprendere la partita ci riesce calcio d'angolo battuto sulle mazzitelli al limite dell'aria riceve il pallone calcio al buono e segna un gol come dinamica simile a quello con il Comola l'anno scorso in trasferta con in quel caso una traiettoria più a parabola ma qui un bel tiro netto però è un tipo di occasione che mazzitelli evidentemente già dallo scorso anno tende a provare anche in allenamento probabilmente quindi poi cerca di ripeterla in campo mazzitelli che si rende protagonista poi di nuovo con la sua doppietta in un'altra incursione comunque importante del Fosinone in un primo momento calcia e la palla probabilmente sarebbe andata fuori però c'è Tonsbet mi pare che la rispinge ritorna sui piedi mazzitelli che stavolta segna e fa il 3-2 dopo il 3-2 il Fosinone cerca anche il quarto gol c'è da dire che anche il Sassuolo poteva pareggiarla in più occasioni perché poi se noi abbiamo mancato il quarto gol dopo il 3-2 inizialmente il Sassuolo ha rischiato di pareggiarla dal nostro punto di vista però la difesa e soprattutto Turati sono stati molto attenti noi abbiamo preso un palo con Sule e la traversa con Garitano che come nella partita con l'Atalanta è entrato alla grande caso si era sul palo sull'azione del palo preso da Garitano era iniziata con caso che davanti al portiere non ha la freddezza di calciare subito si sposta poi la palla e perde l'occasione per fare un tiro che potesse impensare il portiere l'azione continua e Garitano prende la traversa dall'altro lato Gariturati deve esaltarsi in più circostanze su tutta quella al novantesimo una parata assurda veramente lì è un gol quello è un gol che è stato sventato tra l'altro anche altre due circostanze palla a terra molto insidiose aveva parato e poi la gioia finale Brescianini ruba palla davanti la nostra difesa serve Chedira che si stava lanciando lo segue a distanza Lirola Chedira molto triste ma già lo aveva visto che stava arrivando Lirola e lo serve tranquillamente Lirola segna il 4-2 e gli esplode dello stadio quindi un frosinone convincente una partita dai due volt che ci può stare perché comunque l'avversario da tanti anni ormai il Sassuolo è in Serie A e ha giocatori comunque ogni anno di qualità ci sono anche gli avversari in campo non possiamo farci niente in primo tempo hanno avuto un'intensità maggiore rispetto a noi quindi bravi a noi a recuperare un risultato del genere la prossima la trasfetta a Salerno insidiosissima vedremo un po' che tipo di partita ne verrà fuori per questo video è tutto vi invito a iscrivervi al canale e a mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima dopo la trasfetta tra Salernitana e Frosinone ciao